Una vera e propria rivoluzione in casa Teramo. Che la sconfitta di Modena avrebbe lasciato degli strasci che era facilmente immaginabile, che il terremoto invece avrebbe avuto scosse tanto forti, era difficile da prevedere. Perché il sodalizio di via Oberdan ha deciso di ricominciare davvero da capo, via il direttore sportivo Fabio Lupo dopo quattro giornate di campionato. La decisione maturata martedì sera era stata comunicata già nella mattinata di ieri al diretto interessato. Oggi anche l'ufficialità dell'interruzione del rapporto, iniziato quando la stagione passata era al crepuscolo. L'ormai ex DS paga un mercato deficitario nel quale, la colpa principale che gli viene imputata, non ha saputo sostituire Stefano Amadio con Peterman, che per ora non ha dato le risposte che ci si attendeva. In più l'assenza di una vera alternativa a Stefano Scipioni. Ma in generale la costruzione di una rosa carente in alcuni reparti, male assortita, è invece traboccante di soluzioni in altri. Ma non sarà il solo a pagare, perché anche Lamberto Zauli sarà esonerato. Con lui andranno via anche l'allenatore in seconda, Rodolfo Giorgetti, e il preparatore atletico, Mattia Vincenzi. Troppa confusione tattica, scelte fatte con la sensazione di estemporaneità. Insomma, nulla a che vedere con l'organizzazione mostrata a Sant'Arcangelo, che a terra, ma a dir la verità, non si è mai vista. Quattro moduli in quattro gare, pur con tutte le attenuanti del caso. Sono davvero un'enormità. Difesa a quattro come dogma, presto sacrificato martedì, in nome di una tranquillità difensiva che questa squadra però non ha più. Ha giustamente in corsa che si sono rivelati persino peggiori degli errori iniziali, come la scelta di dirottare Petrella sulla fascia sinistra, prima di rimediare posizionandolo dalla parte opposta. Ma sostanzialmente una squadra che sembra consegnarsi ogni volta all'avversario, come una sentenza che sa di inevitabile. Arriverà Federico Nofri, ex tecnico della Viterbese e cacciato dal padron giallo-blu Camilli, dopo aver vinto un campionato di Serie D per far spazio a Giovanni Cornacchini. Sarà lui a guidare il Teramo da oggi in poi, con la possibilità concreta che sabato in panchina però potrebbe esserci Rinaldo Cifaldi, attuale timoniere della formazione Beretti. Da lunedì invece Nofri sarà operativo e proporrà il 4-4-2, un modulo base per provare a far ripartire una squadra attualmente fanalino di coda in classifica e che dovrà attendere gennaio per riparare agli altri errori a cui non può rimediare adesso.